Il risultato parziale è di 7 a 0 nei confronti del Napoli, tripletta di Arek Milik, doppietta invece per Lorenzo Insigne. Le altre reti sono state segnate da Allan e Maximovic. È cambiato un po' l'undici della squadra di Sarri, vi racconto la formazione, Raphael tra i pali, c'è ancora Cristian Maggio, poi c'è Raul Albiol e Coulibaly al centro della difesa, a sinistra c'è Ivan Strinic. Centrocampo a tre, composto da Rog, Diavara e Zieninski, tridente d'attacco con un ass sulla fascia destra, quindi il nuovo acquisto avvestito per la prima volta la maglia azzurra, insieme a Dries Mertens al centro dell'attacco ed Emanuele Giaccherini sulla sinistra. Allora, torniamo da voi lettori, ricordiamo 7 a 0 per gli azzurri, partita davvero pregevole di Arek Milik che con una tripletta ha veramente brillato insieme al suo compagno d'attacco Lorenzo Insigne. Torniamo da voi, saluto intanto Carmine come è sempre presente. Quanto stiamo? Ricordo 7 a 0 per il Napoli, lo ripeto per chi si fosse connesso soltanto adesso, adesso Dries Mertens entra in area di rigore sinistro ed è il primo gol di Dries Mertens stagionale. Quindi 8 a 0 per il Napoli, il calciatore belga è partito da lontanissimo, poi è arrivato al limite dell'area e con un sinistro ha concluso le spalle del portiere Cristofori. Quindi Napoli 8, Bassanaunia 0. Grazie a te Ciro Urbano per essere sempre qui a seguirci. Giuseppe Deliteris ci scrive, potenziare la difesa è fondamentale, l'ideale sarebbe Tà del Bayer Leverkusen. Ci sono movimenti in questo reparto? No, per il momento non vengono registrati movimenti per la difesa, anche perché Sarri vorrebbe continuare ad affidarsi alla coppia al Biol-Kulibali con in panchina Tonelli, Maximovic e Vlad Kirikesh. Tra l'altro ricordiamo il calciatore serbo ha siglato anche una rete nel primo tempo su calcio d'angolo battuto da Fosì Gullam. Il Napoli attacca ancora sulla fascia destra con Cristian Maggio, la palla adesso è proprio tre piedi del nuovo acquisto Unas che con il numero 37 si destreggia, a re tra le spalle per Cristian Maggio, il numero 11 al centro per Zielischi che scambia bene con Rog, la palla arriva sui piedi di Emanuele Giaccherini, il numero 4 cedi a Diavara, scambi sempre molto stretti per il Napoli, quindi Sarri proprio in queste prime battute di ritiro si è concentrato nel lavorare sempre con la squadra molto compatta. Saluto i tantissimi lettori che ci stanno seguendo, intanto vi ricordo il punteggio di 8 a 0 in favore del Napoli, appena segnato Drismertens, addirittura dopo 10 secondi dall'inizio del secondo tempo. Adesso è Unas che col sinistro pesca bene in area di rigore Emanuele Giaccherini, il destro del numero 15 ed è il 9 a 0, quindi Napoli 9, Bassanauni a 0 con la prima rete stagionale di Emanuele Giaccherini. Federico Iannoni, Milik è tornato, sì in effetti Milik è apparso davvero molto in forma, l'attaccante polacco è carichissimo quest'anno, attenzione signora, grazie mille, voci sui prossimi acquisti, Reina resta, sì dovrebbe restare almeno un'altra stagione in azzurro e potrebbe perché no allungare il suo contratto con il Napoli. Ancora la Bassanaunia che riparte dalle retrovie, la squadra in maglia gialla è sotto di addirittura 9 gol, c'è Drismertens che ha fatto un gol addirittura dopo 10 secondi e intanto io saluto e ringrazio davvero, anzi se può un attimo entrare in camera il signor Vincenzo perché dall'Olanda è venuto qui a Di Maro ed è un supporto veramente favoloso per me che sono qui a cercare di raccontarvi la partita mentre alcuni tifosi invece mi, casualmente ovviamente, mi ostacolano ed è bellissimo il decimo gol, quindi Napoli 10 a 0, ancora Drismertens, doppietta di Mertens, quindi Napoli 10, Bassanaunia 0, doppietta di Drismertens nei primi tre minuti di gara, addirittura il secondo tempo il belga ha siglato addirittura una doppietta. Entrato ora è già segnato, è un alieno, ci scrive Francesco Gallo. Fabio, risultato, Napoli 10, Bassanaunia 0, ricordiamo ancora Drismertens che ruba palla e la scede ancora Giaccherini, il numero 14 in trenale, la palla a Zielinski, arriva Zielinski e sono 11 e allora è iniziato veramente alla stragrande, il secondo tempo per il Napoli ha segnato anche Piotr Zielinski. Allora ricordiamo i marcatori, può sfuggire qualcuno perché sono tanti, 11 a 0 per il Napoli, tripletta di Milik, doppietta per Lorenzo Insigne, Allan, Maximovic, doppietta di Mertens, gol di Giaccherini e di Zielinski, 11 a 0 per il Napoli. Se vogliamo vincere bisogna acquistare top player, rispondimi. No, non è proprio così, anche perché Sarri ha imposto almeno, l'organico dell'anno scorso ha voluto confermarlo in toto e a quanto pare sta andando proprio così. Saluto ancora Marina Orsi, la mia cara amica che come al solito mi segue sempre. È tornato in postazione anche Maui Palumbo qui che è pronto a coordinare il tifo alla mia destra. Il Napoli intanto continua ad attaccare. Saluto Aurora Abate, Antimo Serpe, Giorgio Varchetta che parla di altri colleghi. A noi sinceramente non piace denigrare il lavoro di altri colleghi, anche perché se lo facessero con noi non sarebbe corretto e quindi noi cerchiamo di rispettare il lavoro di tutti quanti. Saluto anche il mio carissimo amico, nonché agente FIFA, Davide Avati. E poi, attenzione, Stefano Lanzetta dice, questo lo leggo perché è simpatico, lo leggiamo in italiano, magari dice ma ti ha fatto, c'è stato un piccione sulla tua camicia? No, è proprio così, la mia camicia non c'è nessun piccione. Grazie di farci stare in contatto con la nostra squadra, grazie davvero. Vitale Conte, noi ringraziamo te per seguirci. Chi ha segnato l'otto a zero? Simone Eustacchio. Vi ricordo il risultato qui da Di Maro, Napoli 11, Bassanaune 0, doppietta di Insigne, doppietta di Mertens, tripletta di Milic e poi le reti di Giaccherini, Zienischi, Allan e Nicola Maximovic. Driss, mio cuore, Marina è innamorata palesemente del calciatore belga che in effetti è entrato e dopo dieci secondi ha segnato già la sua prima rete con la maglia del Napoli quest'anno. Saluto la mia cara amica Sonia Mirto, saluto Simone Gaeta, poi ciao Fabio, saluta Mattia e Daniele da Salvatore Palumbo. Certamente, Salvatore, ti saluto Mattia e Daniele. Forza Napoli da Rosa Pezzella, ancora il Napoli che intanto attacca, saluto a Daniela Barone, Giuseppe Foria e poi Maddalena Scialdone. Abbiamo due campioni, è tornata la M&M, quindi Milic e Mertens, sì in effetti si stanno comportando davvero molto bene in questa parte iniziale di ritiro, ricordiamo ritiro che terminerà il 25 di luglio. Sabato prossimo, come vedete qui all'esterno del campo di Di Maro, sarò anche all'esterno del campo di Trento dove il Napoli sfiderà la formazione di casa. Cannavo, sei il Sandro Ciotti del Vomero, grazie. La voce però forse è leggermente diversa. Maria Grazia Marano, sei bravo, che pensi quest'anno lo scondetto lo prendiamo e salutami. Credo che quest'anno possa essere quello buono. Ancora Dries Mertens, tra l'altro è davvero, è assegnato ancora Dries Mertens con uno scavetto. Doppio dribbling a limite dell'aria, è entrato poi in area di rigore con uno scavetto. Ha abbattuto il portiere Cristofori, il povero portiere che ha subito ad oggi ancora 12 reti. Quindi Napoli 12, Bassanaun 0. Saluto Dries Mertens, che addirittura ha cambiato il nome del suo profilo Facebook per il calciatore che ad oggi ha segnato già tre gol in pochissimi minuti. Ancora, vedete, alle mie spalle ci sono tantissimi tifosi. La tribuna è gremita, i coloro che sono qui seduti sul prato è perché non hanno trovato biglietti disponibili. Intanto ho bisogno ancora di un po' d'acqua, chiedo il supporto ad Emiliano Carillo, che è qui alle spalle della telecamera. Scusate, ma questo fa parte della diretta, io ho bisogno di rinfocillare. Ecco, sono pronto e torno da voi. Fatemi sapere, Michele Silvestri, cosa? Siamo sul 12 a 0, Michele Silvestri, tripletta del Dries Mertens in pochissimi minuti, tripletta anche per Arek Milik nel primo tempo. Vi ricordo la formazione del Napoli che è cambiata rispetto a quella della prima frazione di gioco. Adesso c'è Rafael tra i pali, c'è ancora Christian Maggio sulla fascia destra, ci sono Albiol e Koulibaly al centro della difesa e Ivan Strinic a sinistra. Centrocampo a tre, cambiato totalmente rispetto a quello del primo tempo. Adesso ci sono Rog, Diavara e Zienlischi in attacco. Giaccherini sulla fascia sinistra, Unas su quella destra e poi al centro dell'attacco. Ritornato il brillantissimo Dries Mertens, continuano i messaggi, tantissimi messaggi. Saluto ancora Rosario Marigliano, visto il risultato ti vogliamo come speaker ufficiale del Napoli. Daniele Troise, beh, no, io sto bene qui a Calcio Napoli 24, mi tengo ben stretto questo microfono e quindi mi auguro di portare fortuna magari anche nelle prossime amichevoli. Poi c'è un saluto da Franco Esercizio, addirittura dalla Germania. Mario Pastara, troppo forti e l'hanno giusto fino alla fine. Sì, io rispetto chi rispetta il Napoli, Giorgio Varchetta continua ancora a mandare messaggi su altri colleghi. Caro Giorgio, noi parliamo di Napoli e godiamoci questa partita. Intanto Giaccherini si avvicina all'area di rigore, vorrebbe calciare la cede ad Unas che prova a scambiare con Dries Mertens. Ancora palla per Zienlischi, Giaccherini sulla fascia destra e il destro di Giaccherini. Finisce però alto, un saluto a Marcella Sarnataro, a Marianna Pollice, un saluto anche a Giovanni Russo che dice che il Napoli è forte già così. Basta confermare tutti in blocco. Forza Napoli, Waiju, quest'anno lo vinciamo l'innominabile. Christian Farì è abbastanza scaramantico. Finita? No, non è ancora finita. Siamo nel secondo tempo. Ricordiamo a Danilo Tramontano che il Napoli conduce per 12 a 0 il risultato contro la bassa Naune. Vi ricordiamo i marcatori, tripletta per Milic. Adesso il Napoli batte un corner. Di testa ci arriva Coulibaly per la palla dal Bioll che arretra il passaggio. Se io adesso sto girando la testa è perché c'è un sacco di gente qui davanti a me che sta guardando la partita. Saluto la mia amica Rita Vitabile. Emanuele Castelli, Mertens e Insigne. Io vi adoro. Intanto saluto anche il signor Vincenzo che è alle mie spalle, che tra l'altro è un supporto tecnico davvero importante per me quest'oggi. Viene direttamente dall'Olanda. Lui è di Portici ma viene dall'Olanda. Vincenzo preferisce non farsi inquadrare. Però vi assicuro che è davvero un esperto in mista... Ah, eccolo qua. Eccolo qua. L'abbiamo in diretta. Il signor Vincenzo. Ecco, grazie a Vincenzo. Luigi. Luigi, scusate. Fino a quando staranno a Di Maro? Fino al 25 luglio. Il Napoli resterà qui in Trentino fino al 25 di luglio. Vi ricordiamo che sabato sera il Napoli giocherà contro il Trento, proprio presso lo stradio di Trento per un'altra amichevole stagionale. Portiere Cristofori, tra l'altro adesso bisogna sottolineare la buona prestazione nonostante le 12 reti subite, ma vi è sicuro che sono arrivati davvero tantissimi tiri nella porta della Bassanauna e lui si è egregiamente... Ha parato veramente egregiamente. Salutami Ciruzzo Mertens, da Enza Spagnolo. Certamente, almeno si sta freschi lì oppure fa caldo. Beh, guarda, non vorrei farti vedere le mie condizioni della camicia, ma ti assicuro che la sera si sta bene, ma oggi fa molto caldo. Daniele Dani Silvia ci scrive. Un saluto a tutti i napoletani da Genova, da Daniele, da Samuele, dai piccoli Mattia e Ciro. Certamente, saluti a tutti voi. Grande Mertens, del Vira Ascione. Il Napoli nel frattempo continua ad attaccare con Zielinski, che pesca bene un as sulla fascia destra, ma l'attaccante numero 37, lo ricordiamo, non arriva bene sul pallone. Grande calcio Napoli 24, grande tu, Catello Fatto Russo, che ci stai seguendo. Grazie per l'averla ripetuta, grazie a te. I marcatori li ripetiamo per Marco Mennella, che ai 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 si è connesso soltanto adesso. 12 a 0 in favore del Napoli. Il primo tempo tripletta, ben di Arek Milik, doppietta per Lorenzo Insigne e le reti di Zielinski, di Allan e Maximovic. Nella ripresa è entrato Dries Mertens e in pochissimi minuti ha fatto addirittura tre gol. Poi ha segnato Zielinski e ha segnato anche Giaccherini. Quindi risultato sul 12 a 0. Salutiamo anche, nel frattempo, devo ringraziare la regia di Si Comunicazione, con Emiliano Carillo, che è alle spalle della nostra telecamera, che voi non vedete, ma un giorno, vi prometto, in questo ritiro vi presenterò e intervisteremo, perché si sta rivelando davvero un aiuto molto importante per la nostra redazione. Non solo, ma soprattutto la redazione di Calcio Napoli 24, sia quelli presenti qui a Di Maro, Marco Lombardi, Marco Galliero, Claudio Russo e Leonardo Vivard, ma soprattutto anche la redazione che fa davvero un grandissimo lavoro a Napoli, grazie al nostro direttore Salvatore Passante. Novità di mercato Francesco Russo? Beh, ieri sera è arrivato qui a Di Maro Mario Ru, insieme al suo agente Mario Giuffredi. La trattativa dovrebbe essersi conclusa, bisogna attendere solo l'ufficialità. Nel frattempo Mertens ha provato ad insidiare il portiere Cristofori, come sta giocando Unas? Ma Unas sta giocando molto molto bene, è piccoletto, è bassino, è leggerino, ma vi assicuro che ha un talento importante. Nel frattempo si alza il drone di Maurizio Sarri, che evidentemente vorrà constatare quali sono i meccanismi difensivi, che per lui sono davvero sempre molto importanti. Luca Scandone ci scrive dalla Germania e ci chiede del portiere. Allora, stando alle ultime di mercato, Reina dovrebbe allungare il suo contratto con il Napoli, ancora per un'altra stagione, quindi anziché nel 2018 potrebbe scadere nel 2019, perché no? Potrebbe rinnovare anche Luigi Sepe di un'altra stagione, se avesse però la promessa da parte della società e da Sarri di poter vestire le vesti di vice Reina. Ciruzzo Mertens scatenato. Sì, in effetti è stato, veramente si sta scatenando, si sta divertendo tantissimo, serve assist preziosi e poi ha fatto ben tre gol. Saluto il mio carissimo amico Dario Bellisario, che come al solito è fedele, a Calcianapoli 24, e saluto soprattutto gli amici del bar Michelangelo con Marcella Corvino, capitanati da Marcella Corvino. Perché non vengono presentati i nuovi giocatori? Beh, questa è una scelta, caro Simone Panipucci, questa è una scelta della società che ormai da qualche anno a questa parte ha deciso di non far parlare in una conferenza di presentazione ogni acquisto che arriva. L'ultimo a volere, ad imporsi su questa regola è stato Rafa Benitez con i primi acquisti, vi ricordate Iguain, Cajacon, Mertens, furono presentati tutti, ma da quando c'è Sarri e da quando sono cambiate un pochino le cose il Napoli ha deciso di optare per quest'altra soluzione. Marcatori, Gaetano Curella, ve li ripeto, tripletta di Milik, tripletta di Mertens, doppietta invece per Lorenzo Insigne, e poi le reti di Giaccherini, Zieninski, Allan e il serbo Nicola Maximovic. Un saluto da Torino, del Virascione, Forza Napoli, quest'anno il Napoli vincerà campionato e team cup, Gaetano Golia, noi ce lo auguriamo assolutamente. Saluto anche il nostro amico Fulvio Accurso, e tra l'altro vi segnalo un palo di Adam Unas, un palo che purtroppo non sono riuscito a raccontarvi in diretta per i tanti tifosi che mi ostruiscono la visuale. Le tue impressioni su Milik da Fulvio, credi abbia superato il trauma da infortunio, o si tira la gamba come si suol dire? No, caro Fulvio ti racconto di un Milik veramente in forma smaiante. Io sinceramente non me l'aspettavo, perché solitamente i calciatori della stazza di Milik ci mettono un po' di tempo per entrare in forma, ma ti assicuro che questo calciatore è davvero molto carico, vuole riguadagnarsi il posto in squadra, e stando alle ultime prestazioni, soprattutto a quella di oggi, credo sarà difficile per scegliere tra lui e Dries Mertens. Puoi salutare mio figlio Mattia, super tifoso di Mertens, ma tu sei il padrone, tu qui sei il nostro amico, il nostro super lettore, quindi un saluto a Mattia, il figlio di Sasa, Sasa. Sandro Cosenza ci chiede di Kayekon. Non c'è male, è bene la prestazione dello spagnolo, certo forse tra i tre attaccanti, quindi tra Milik, Insigne e Kayekon, è stato quello che ha brillato un po' di meno. Adesso la Bassanonia sta attaccando, Zelinski recupera pala a centrocampo, Diavarala smista sulla destra per Cristian Maggio, Albiol prova a far ripartire, scusate ho una mosca in testa, Albiol prova a far ripartire la squadra, un as, la mette in profondità per Dries Mertens che si avvia verso la porta, il destro di Mertens e il poker siglato dal Belga, quindi Napoli 13, Bassanonia 0, 4 gol, ben 4 gol di Dries Mertens che però vi ricordiamo è entrato soltanto al 46esimo, quindi in pochi minuti ha destabilizzato assolutamente l'ambiente e la partita e ha fatto ben quattro reti. Goulam ha trovato l'accordo con Napoli per il rinnovo? No, al momento non ancora, ma le parti si stanno avvicinando, soprattutto perché Sarri a quanto pare ha richiesto la conferma del terzino algerino. Continuo a leggervi, siete davvero tantissimi e noi veramente vi ringraziamo e vi siamo grati per il vostro affetto. Grande lavoro, complimenti, grazie a te Diego De Pasquale, siete dei grandi professionisti. Ecco, questi sono i messaggi che in effetti mi fanno un po' anche emozionare, grazie per il lavoro che fate. Giorgia Colicchio, saluto la mia cara amica Giorgia, ma la terza maglia, ci chiede Peppone Ciotolo, la terza maglia non è stata ancora presentata. Ieri, proprio qui sul campo di Carciato, è stata presentata la prima divisa ufficiale della stagione 2017-2018, una maglia Combat molto molto simile, siamo onesti, siamo sinceri rispetto a quella della stagione passata, cambierà soltanto il colletto che non sarà più bianco, bensì azzurro e qualche sfumatura. Andiamo ancora da voi lettori, saluti dal club Napoli, Maurizio Sarri, da Domenico Iagnunese. Beh, noi ci uniamo ai saluti, e ricambiamo i saluti al club Napoli, Maurizio Sarri. 13 gol, quindi sì, ben 13 a 0. Adesso attacca la Bassanaune, ma Strinic con una spallata recupera il pallone, lo cede a Zielinski, Coulibaly fa ripartire l'azione, cede il pallone a Marco Rog, Napoli, insomma, davvero in forma smaiante. Ed ecco la palla che arriva sui piedi di Ana Munas, che percorre tanti metri, palla al piede, con il mancino a larga sulla sua destra, dove arriva prepotente Cristian Maggio, il numero 11 aspetta il compagno Zieninski, la tocca alle sue spalle, Zieninski al limite dell'aria, pesca bene Marco Rog, ancora adesso il sinistro di Rog, che sfiora l'incrocio dei pali. Salutate Diego e Mattia, i miei bimbi, certo Rosa Pezzella, salutiamo i tuoi bimbi. Non hai detto chi ha segnato? Joan Bob, no Joan, io ti assicuro l'ho detto ben 56.000 volte, però per te farò una... lo ripetiamo. Allora, tripletta per Arek Milik, tripletta poker per Vries Mertens, doppietta per Lorenzo Insigne, Allan, Giaccherini, Maximovic e Zieninski, gli altri marcatori almeno per il momento. Quanto stiamo? Siamo 13 a 0 per il Napoli. In settimana, Sassassassà ci chiede, chiudiamo per Berenguer, perché no? Potrebbe essere questa la settimana decisiva per l'arrivo di Berenguer in maglia azzurra, ricordiamo che il Napoli è in concorrenza con l'Atletic Bilbao per l'acquisizione del cartellino dell'attaccante spagnolo, 7 milioni è l'ultima offerta del Napoli, pardon, ma la clausola recessoria dell'attaccante è a Monta 9, l'Atletic Bilbao è ben distante, per cui in vantaggio è il Napoli. Siete grandi come il mio Napoli, grazie a te Enza Spagnolo. Salutami, scrive Angelo Ciriello, saluti ad Angelo che ci sta seguendo, è il Papu, si sa nulla, è il Papu quest'oggi ha rinnovato il suo contratto con l'Atalanta, per cui dovrebbe essere molto remota, anzi quasi impossibile, il suo arrivo a Napoli. Lorenzino mio si è addormentato, ci scrive Marina, no, Lorenzino tuo, non si è addormentato, è uscito dal campo, dopo un brillante primo tempo, ricordiamo che ha concluso con una bellissima doppietta. mi saluti, certamente Thomas Cini, noia, grazie a te Rosa Pezzella per seguirci sempre, Marco Ceraso, è una mia sensazione, ho molti giocatori, Insigne e Mertens, su tutti sono arrivati con chili in meno, è molto tonici, no, non è una tua sensazione, è proprio così. Intanto chiedo ai nostri amici, se magari fanno un po' di visuale anche a me, cortesemente, però noi li salutiamo con grande affetto, perché i tifosi del Napoli, noi li non possiamo che volergli del gran bene. Per piacere mi saluti, certamente Enzo Seguino, Fabio, ringraziamo il nostro presidente, Gerardo Nicolino, certamente, vai Unas, facci sognare e facci vedere di che pasta sei fatto. Da Antonio Bottone, altra pausa, perché Fabio ha bisogno un attimino di sorseggiare un po' d'acqua. Unas come lo vedi in campo, i movimenti sono quelli giusti? Sì, certamente ci vorrà del tempo per vedere, e intanto il signor Luigi non mi sta dando più informazioni e questa cosa è preoccupante. Chi è uscito? È uscito Maggio, al suo posto, è entrato Elze Di Usai, quindi stiamo rivedendo il calciatore albanese, schierato nel suo ruolo naturale di terzino destro. Vi ricordiamo che per una tonsillita ha dovuto saltare ben tre sedute d'allenamento, adesso oggi si è ristabilito, non ha potuto svolgere tutta la partita, perché reduce da un'influenza molto forte, ma adesso è qui presente, in campo, proprio alla mia destra, vi ricordo, lo stadio di Carciato, dove il Napoli conduce per 13 a 0 contro la formazione di promozione della bassa Naunia. Ricordiamo i marcatori, quattro gol di Dries Mertens, tre gol di Arek Milik, doppietta brillante di Lorenzo Insigne, poi le reti di Allan, Giaccherini, Zienischi e il serbo Nicola Maximovic. Ancora Ivan Strinic sulla fascia sinistra, il calciatore croato allarga sulla stessa fascia per Dries Mertens che punta l'avversario. Vediamo il numero 14 che entra in aria, prova a scambiare il pallone, è entrato anche Leonardo Pavoletti. Sì, adesso il sinistro di Dries Mertens e sono ben cinque le reti, siamo sul 14 a 0, quindi 14 a 0 per il Napoli. È entrato anche Pavoletti al posto, adesso non vi saprei dire sinceramente, però c'è anche Leonardo Pavoletti al centro dell'attacco del Napoli. Bevi Fabio, bevi, beh certo, dovrò per forza. Ha segnato Mertens, quindi la manita di Dries Mertens che fissa per il momento il risultato sul 14 a 0, 14 proprio come il suo numero di maia. Chissà, vi starete chiedendo che numero indosserà Adam Unas, per il momento indossa il 37, però non è detto che sia poi quello definitivo. Bisogna credere nel presidente. Io, lo stadio e il settore giovanile da Giuseppe Milo. Ciro Cioffi, lo scudetto è un sogno ma tutto il Napoli è un sogno orgoglioso di essere un tifoso del Napoli. Fabio, grazie di tenerci informati e Forza Napoli da Santo Romano. Santo, grazie a te per esserci sempre vicino. Saluto amici, Ruzzo Mertens, arrivano messaggi soprattutto per l'attaccante belga. Adesso vi informo che tra l'altro, allora, ragioniamo un po' sulla formazione. Ripetiamo, c'è Rafael Traipali, c'è Yusai, Albiol, Kulibali e Strinic, Rog, Diavara e Zielinski a centrocampo. In attacco ci sono Mertens, Pavoletti e Giaccherini, quindi è uscito dal campo, anzi no è Leandrigno, quindi sono usciti dal campo Giaccherini e Dunas, sono usciti per far posto a Pavoletti e al giovanissimo Leandrigno che vediamo adesso in azione sulla fascia destra, tenta il cross morbido al centro dell'aria per Pavoletti che fissa il risultato sul 15 a 0, 15 a 0 per il Napoli, rete anche di Leonardo Pavoletti che finalmente si è sbloccato, però vi racconto di un Pavoletti in palla, in queste prime sedute di allenamento in questa prima settimana di ritiro si è destreggiato davvero molto bene, è sembrato molto più leggero, molto più pimpante rispetto al Pavoletti appesantito che abbiamo visto da gennaio scorso. Saluto anche la mia amica Denise Bonvincin che è qui tra le montagne di Cless e che spero presto di vedere. Con questo Napoli dice Antonio Gallo possiamo vincere lo Scudetto. Beh, sono d'accordo con te, sarebbe bello vedere una maglia più pulita con gli sponsor senza riquadri, riquadri, vero Fabio? Beh, io credo che gli sponsor in fondo poi siano anche la forza di ogni società e quindi di certo una società come il Napoli non può privarsi di attaccare sulla propria maglia gli sponsor. Grande Pavoloso messaggio di Salvatore Verdoliva sì, ha segnato lui la rete del 15 a 0 c'è una serie di moschini che mi sta attaccando noi ci difendiamo. Saluto Raffaella Caruso saluto anche Gianni Esposito che ci chiede perché un asse è uscito già un asse è uscito già per far posto alle Andrigno anche perché la partita dura 90 minuti e Sarri evidentemente voleva provare tutti i calciatori a disposizione. Saluto il mio carissimo amico il golosone Gino Visconti e poi Forza Napoli dalla Svizzera da Cosimo Ferrazzo saluti anche a tutti gli abitanti svizzeri Fabio stai stai no Girolamo questo non lo scriviamo quanti cambi ha fatto? Ha fatto ha cambiato tutta la squadra ha cambiato adesso la formazione è questa qui Raffaella Traipali Jussai Albiol Kulibali e Strinic Zielinski Rog e Diavara a centrocampo sono usciti Unas e Giaccherini in campo sono entrati Leandrigno Pavoletti che stanno accompagnando Driz Mertens nel tridente offensivo Forza Napoli io credo allo scudetto Rino Carmine piccolo beh ci stiamo credendo un po' tutti in effetto in effetti calma a parlare di scudetto invece Luigi Mittica è un po' più difensivista grande a te Girolamo Ponte il presidente del club Napoli Umbertide una telecamera a volte invisibile per alcuni il Napoli ha avuto contatti con Zata Imbraimovic potrebbe essere lui il mister X di ADL no non potrebbe essere assolutamente lui perché il Napoli ancora Mertens per Leandrigno e sono 16 anche il brasiliano il giovane brasiliano arrivato al Poncipreta nello scorso gennaio ha finalmente esiglato la sua prima rete in maglia azzurra anche Leandrigno sul tabellino dei marcatori Napoli 16 Bassa Naunia 0 ancora saluto Anna Signore per la sua attenzione saluto Flora Esposito che ci saluta da Secondigliano e Gino ci chiede Fabio ma con il mercato ci siamo fermati o c'è qualche speranza di prendere ancora qualcuno però Gino il Napoli ieri ha chiuso un acquisto importante soprattutto per Maurizio Sari che è quello di Mario Rui ancora non è arrivata l'ufficialità potrebbe arrivare anche Alex Berengher e credo che così magari con un altro portiere se proprio Rafael dovesse andare via credo che il Napoli si è a posto così saluto Valerio Gennaro che scrive quest'anno ho davvero la sensazione che possa essere quello che il Napoli abbia due squadre con il top player che è Sari e con gli schemi a memoria insomma cerchiamo anche di mandare messaggi più leggibili perché se no così non vi riesco a riportare salutami saluto 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 Giuseppe D'Angelo e vai col 20 adesso siamo sul 16 a 0 per il Napoli l'ultima rete è stata siglata dal brasiliano Leandrigno Raffaele Balzano io personalmente terrei i pavoletti se non ne vale la pena per me con un campionato così lungo che inizia il 15 agosto si avrà bisogno di tutti e in effetti il Napoli avrà bisogno di un organico al completo però caro amico Raffaele Balzano ti ricordo che al centro dell'attacco io sto per esaurirmi perché voi non avete idea quanti insetti mi stanno attaccando in ogni parte del mio corpo mi devo un attimo a che minuto sta ci siamo siamo quasi alla conclusione Fabiana Manzo ci sta guardando e io saluto allora ma sicuro che stanno in Trentino con tutti questi babà stanno avendo un'indigestione sono 16 mancano ancora 15 minuti alla fine della partita ma Marco Abagnale ci chiede se sulla destra potrebbe arrivare qualcuno il presidente dell'Aurentis ha parlato in maniera molto chiara di Cristian Maggio ha detto Maggio è un professionista è un buon giocatore di certo non ha più l'età molto giovane però se dovessi poi prenderne un altro potrebbe poi richiedermi di giocare e mi romperebbe le cosiddette bip comunque spero che venga anche Meret Francesco Faraldo eh chissà perché no io sono convinto che questo calciatore sia davvero molto molto importante di poco sotto Donnarumma se Donnarumma viene valutato circa 80 100 milioni di euro 17 per Meret rispenderei domattina purtroppo non ce li ho saluti intanto dalla tribuna per Adam Unas che è uscito dal terreno di gioco buona la prova del nuovo acquisto del Napoli che ha giocato nella posizione di esterno d'attacco a destra posizione che solitamente ricopre Cosè Maria Cagliecon un po' di repellente per gli insetti no non ci avevo pensato Giuseppe Sole la prossima volta ci organizzeremo meglio ancora il Napoli in attacco che attacca sulla fascia destra il calcio d'angolo intanto saluto Maui Palumbo che sta coordinando il tifo dei tifosi qui presenti sul convinciamo la mucca Carolina dice Palumbo allora Beppe Conte Fabio saluta Noemi la mia nipotina che è contenta un abbraccio Noemi un abbraccio a te e un abbraccio anche a Beppe Conte Cannavo ma quanto è forte Mertens ci scrive il nostro amico Paolo è davvero molto forte ma tra l'altro non solo è forte è entrato in forma in brevissimo tempo glielo concede il suo fisico di certo molto leggero però c'è da segnalare anche davvero un'importante prestazione di Arek Milik che nel primo tempo si è scatenato con una tripletta ma Mertens accuota 5 reti allora Medeo Picone ci chiede il risultato sono 16 a 0 per il Napoli Napoli Bassanaunia 16 a 0 quindi ricordiamo le reti 5 gol di Dries Mertens 3 gol per Milik 2 per Lorenzo Insigne ha segnato Allan ha segnato Maximovic Giaccherini e Zielinski e l'ultimo l'ha segnato il giovanissimo Leandrigno risultato l'abbiamo appena ripetuto nessuna notizia di mercato per il terzino destro al momento forza Napoli un saluto dalla Germania Antonio zio Tonino Camardella ci saluta e ancora in campo Mertens da Besar Ibrahimi sì e ancora in campo il calciatore belga che completa l'attacco insieme a Leandrigno e al ex centravanti del Genova Pavoletti ritorno di Cavani no al momento non segnaliamo un ritorno di Cavani sinceramente è un'operazione alquanto complicata per costi per insomma per tutta una serie di motivazioni Cavani gioca nel Parinizio Germain adesso reciterà un ruolo importante in questa squadra da quando è andato via Ibrahimović difficilmente potrà tornare al Napoli se non in un'età abbastanza avanzata e non so fino a che punto potrebbe essere utile ma questo Mister X ci scrive Gino Visconti in che ruolo arriverà? Io credo Gino che se proprio dovesse esserci un Mister X potrebbe arrivare in attacco ma sempre dopo il preliminare di Champions se il Napoli dovesse passare il playoff arriverebbe incasserebbe altri milioni di euro e a quel punto perché no potrebbe arrivare anche un ulteriore acquisto anche di quelli importanti ci stavamo facendo male ma per pochissimo non è successo niente secondo te il Napoli non potrebbe puntare su Orie del Paris Saint Germain visto che è arrivato Dani Alves è costoso come ingaggio ragazzi bisogna rendersi conto che la politica del Napoli non è quella della Juventus che va sui parametri zero o va a strappare alle concorrenti d'Europa calciatori della forza di Orie o come Dani Alves il Napoli prende Iounas i Berenguer i Mario Rui per puntellare l'organico che per Sarri è già posto così com'è possibile scambio chi ricche resterà per questa nuova stagione scrive Roby Ripoli sì dovrebbe restare anche perché Sarri si sarebbe imposto riguardo alla conferma del difensore rumeno in quanto viene considerato il vice al Biol per eccellenza se passa Anna Specchio ha interrotto la diretta il risultato Anna no Anna dovevi essere più attenta mi raccomando quando Calcio Napoli ti invia la notifica devi essere sempre pronta scherzo ti ricordo il risultato che adesso è sul 16 a 0 16 a 0 in favore del Napoli in sovraimpressione potete guardare grazie alla regia fantastico il lavoro perfetto che dico perfetto eccezionale di Emiliano Carillo di sì comunicazione un'autorete il signor Luigi guardate qui al mio fianco ci racconta di un'autorete quindi il Napoli 17 Bassanaunia 0 17issima rete siglata grazie ad un'autorete della squadra in maglia gialla vi dicevamo in sovraimpressione Emiliano Carillo vi sta segnando tutti i marcatori in modo che io non possa dimenticarne nemmeno uno ci sarà la diretta sabato assolutamente sì come oggi noi vi proporremo la diretta della prossima amichevole del Napoli che sfiderà il Trento sul terreno di gioco dello stadio di Trento il top player è sempre Maurizio Sarri o impari gli schemi o li impari guardando dalla panchina un maestro sì siamo tutti d'accordo contenti tanto ringraziamo il nostro service comunicazione di Marco Caiano il lavoro brillante di Emiliano Carillo noi ci teniamo a sottolinearlo perché è colui che voi non vedete però vi ripeto un giorno ve lo mostrerò qui anzi gli faremo una bella intervista perché è davvero una grossa forza per noi ultima ora notizia dell'ultima ora a causa dell'Aurentis Iguain l'avvocato dell'SSC Napoli conferma slitta l'esito della battaglia legale quindi su calcianapoli24.it tutti i dettagli di questa spiacevole vicenda che ha coinvolto l'ex calciatore azzurro Gonzalo Iguain e la società sportiva Calcio Napoli no ci scrive Silvio Cirillo 17 no fatene un altro è scaramantico il nostro amico 17 a 0 povero AUNAS addirittura un autorete AUNANIA non è AUNAS non confondiamoci tra AUNAS e AUNANIA ma la squadra che il Napoli sta affrontando di quale categoria è Giuseppe Izzo è una squadra di promozione che tra l'altro ha terminato il suo campionato a metà classifica quindi ecco giustificate le 17 reti siete grandi Calcio Napoli24 da Luca Lotti grazie a te Raffaele Cocozza scherza mi schiamo le squadre scherzo onore alla Naunia per aver onorato l'impegno e in effetti è vero simpatico il tuo messaggio io rafforzerei la rosa con un terzino destro e uno sinistro Yusai e Goulam sono limitati nel gioco adesso Trismertens in becca ancora Leandrigno ma il brasiliano non arriva sul pallone Luigi Moscardino salutiamo Luigi Moscardino e Pina Mocerino quanto stiamo? Buonasera a tutti siamo sul 17 a 0 Gino Visconti ancora ci scrive una domanda ma la Juve per vincere il campionato aveva bisogno di Gonzalo forse no forse no gli sarebbe bastato anche soltanto Mandzukic e Di Bala diciamo la verità però Gonzalo Higuain insomma è quel calciatore che anche nello spogliatoio si fa sentire sapere di avere in squadra di avere in squadra un talento come Gonzalo Higuain di certo ti permette anche di scendere in campo in maniera più concentrata e più decisa dai salutami Enzo Gentile ciao certo che ti saluto a che minuto stanno mancano pochissimi minuti al termine della partita intanto vi ricordo 17 a 0 Napoli-Bassanaunia quindi molti stanno cercando di volerne fare un altro perché questo numero proprio non piace a noi tifosi Mario Rui sta facendo altre visite mediche no per il momento è stata slittata l'ufficialità ancora non si conosce il motivo ma voglio dire nessun problema Mario Rui dovrebbe essere al 99% anzi ancora di più un prossimo il nuovo acquisto del Napoli aveva bisogno di Gonzalo per non farlo vincere a noi ecco la risposta di Raffaele Balzano al nostro amico Luigi Visconti che tra l'altro iniziano anche a interfacciarsi tra loro in maniera molto educata e tra l'altro anche molto competente la prossima gara fate vedere proprio il campo Luca Lotti beh Luca questo mi offende perché vuol dire che il mio viso proprio non ti piace scherzo i diritti delle immagini delle partite sono stati assegnati a Mediaset che tra l'altro non sta trasmettendo in diretta la partita ma soltanto parte qualche spezzone il Napoli intanto è vicino al diciottesimo gol ancora Pavoletti il destro a giro bellissimo il destro di Pavoletti che sfiora l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere Cristofori sabato vengo a Trento Agostino Capone beh vieni a salutarci così avremo modo di conoscerci Antonio Gallo molti autografi del Napoli mi manca solo quello di Mertens allora cosa aspetti ad arrivare qui a Di Maro perché ogni giorno il Napoli mette a disposizione due calciatori che fanno un giro lungo un percorso un perimetro e permettono ai tifosi di poter scattare dei selfie o anche di poter farsi firmare degli autografi saluti il mio caro amico Federico Fonticelli arriviamo a 20 ci scrive Francesco Daniele Piccirillo il Napoli ci sta provando al momento siamo ancora sul 17 a 0 chissà che il Napoli non possa sbloccare questo risultato mancano sei minuti mi dice il nostro amico il signor Luigi il prezioso aiuto tecnico che io mi sono di cui mi sono prevalso quest'oggi anzi davvero molto grazie ancora saluti a Pasquale Pizzo a Giorgio Di Lorenzo a Monica Riviecio e a Gaetano Curella che ci chiedo come ha giocato un asse è stato breve il minutaggio del nuovo acquisto del Napoli perché è entrato al suo posto Leandrigno ma si è destreggiato molto bene sulla fascia destra ha giocato al posto quello che è solito di Cosè Maria Cagliecon e ha giocato davvero molto bene ha sfiorato anche il gol perché ha colpito un palo complimenti da Alessio Manfredi grazie davvero saluti a Luigi Formisano Fabrizio Cecchini ma non si era parlato di comprare Abbiati per la porta Abbiati ha smesso di giocare cosa dici Fabrizio Cecchini bravo Luigi arrivano i complimenti a Luigi Visconti da Giuseppe Sole adesso segna un asse e facciamo 18 no purtroppo non potrà più segnare un asse a meno che non lo faccia nella prossima amichevole perché è uscito anzitempo dal terreno di gioco per far spazio al giovanissimo classe 99 Leandrigno tra l'altro piccola sorpresa di questa prima parte di ritiro sabato sarò anch'io a Di Maro Forza Napoli Renato Chiacchio ti aspettiamo a braccia aperte Sei Mertens Luca Portoghese un altro utente che ci sta aiutando e ci fa il conto dei marcatori il Napoli farà qualche altro acquisto sì perché no ieri sera è arrivato qui a Di Mario Maro Rui ex calciatore della Roma ricordiamo la formula d'acquisto 3 milioni di euro per il prestito oneroso quindi subito più 6 milioni che verranno versati nelle casse della società giallorossa dopo le prime presenze in azzurro Forza Napoli Forza Calcio Napoli 24 grande bel messaggio di Simone Zimo Pani Pucci Stani Scuotto ci sta guardando il mio caro amico Stani prima che finisca la diretta ti vorrei ringraziare Agostino Capone siete grandi ecco ecco veramente io non ho parole per voi davvero sono arrivati tantissimi ringraziamenti per la nostra redazione e io ci metto la faccia ma vi assicuro che il merito non è soltanto il mio ma è di tutta la redazione anzi io ho proprio voglia di citare tutti i colori che stanno lavorando per questo ritiro e per raccontarvi e per farvi vivere l'emozione e l'atmosfera che si respira qui a Di Maro quindi da Claudio Russo a Bruno Galvan a Leonardo Vivard Alessandro Marrazzo il nostro esperto di calcio spagnolo Salvio Passante il nostro direttore Manuel Guardasole Marco Rombardi Marco Galliero Lorenzo Sorianiello adesso magari mi sfuggerà qualcuno Ciro Novellino insomma siamo davvero tanti e vi assicuro che siamo un bel gruppo Grandi che servizio io sono emozionato sono talmente tanti i complimenti che davvero li giro a tutti Rugli o Leno al momento nessuno dei due perché il DS del Bayern Leverkusen Rudy Feller ex conoscenza del calcio italiano alla Roma DS del Bayern è intervenuto qualche giorno fa chiarendo la situazione relativa al portiere tedesco dicendo il Napoli è vero che si è interessato ma per quest'anno resterà ancora a disposizione con noi al 100% chiudendo ogni porta a qualsiasi possibile acquirente e poi c'è Rugli la trattativa per Rugli il Napoli l'aveva abbozzata ma la Real Sociedad ha fissato una clausola recissoria di 40 milioni di euro se il Manchester City proprietario del cartellino ha il diritto di recompra di acquisto sul cartellino di Rugli per cui un'operazione davvero molto 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 complicata grazie di cuore per queste emozioni grazie a te Giussi Grimaldi non vedo l'ora che inizi il campionato scrive Giorgio Carrese io intanto devo necessariamente bere ancora un po' d'acqua ecco qui saluta Peppe Poli ciao il mio amico Peppe Poli il collaboratore di Made in Sud ricordiamo nei giorni scossi la squadra di Made in Sud è arrivata qui a Di Maro e Calcio Napoli 24 ha avuto il piacere di intervistare diversi attori siete grandi grazie a Calcio Napoli 24 che dici Leno farà la differenza? beh io credo che Leno sia un portiere davvero di primissimo livello anzi vi assicuro che per quanto mi riguarda è tra i primi 10-15 portieri al mondo e quindi il Bayer Leverkusen purtroppo se lo terrebbe stretto mi manca solo la firma di Unas Enzo Gentile Unas è arrivato nei giorni scorsi a firmare degli autografi e tra l'altro è stato chiamato nei modi più bizzarri da Ananas ad Onassis insomma su Calcio Napoli 24 troverete il Vox Populi di Marco Galliero che davvero sarà davvero molto divertente dai fate il 18 il Napoli vi assicuro ci sta provando adesso stanno per battere un calcio d'angolo palla arriva a Diavara al limite dell'aria scambio con Yusai palla a sinistra per Ivan Frinic Giaccherini vi raccontiamo in diretta questi ultimi minuti di gioco affinché il Napoli magari possa segnare il diciottesimo gol Rog scambia con Pavoletti ti arlarga il croato a destra dove scala Yusai ancora palla per Rog dialogano bene i due l'albanese arriva sul fondo e cross al centro e arriva peccato perché per pochissimo non è stato segnato il diciottesimo gol del Napoli con Pavoletti Pepe Reina rinnovato non ancora Riccardo Parisi o meglio non ci sono ancora notizie relative al suo prolungamento di contratto con il Napoli però potrebbe arrivare proprio nei prossimi giorni Giuseppe Cimmino per favore saluti Pasquale Molitierno che grazie a me guarda questa diretta grazie a Giuseppe Cimmino e anche a Pasquale Molitierno Insigne ci riesce a fare la tripletta? no perché uscito dal campo a fine primo tempo è stato ben sostituito da Emanuele Giaccherini che possiamo però purtroppo definire forse tra i meno in palla di questo di questo Napoli grazie Calcio Napoli 24 siete per noi per noi tifosi residenti al nord siete i migliori amici e voi siete altrettanto l'Audi Cup dove? dove? sul calcio Napoli 24 noi ve la racconteremo sempre in diretta il Napoli vi ricordiamo affronterà in amichevole l'Atletico Madrid il Liverpool e il Bayern Monaco in questo quadrangolare palo di Giaccherini e poi l'arbitro fischia perché era fuorigioco questo quadrangolare che si giocherà primo e due agosto a Monaco di Baviera Zapata è sicuro al Toro non ancora il Torino ci sta lavorando Zapata è la prima pista per l'attacco della squadra di Urbano Cairo l'ultima offerta per il Napoli di 18 milioni di euro offerta che secondo me il Napoli potrebbe anche decidere di accettare ma Mario Ruia quando l'ufficialità lo deciderà il presidente dell'Aurentis tramite il suo solito tweet che stiamo aspettando Rino Carmine Piccolo verrà Carnesis beh potrebbe essere una soluzione per il ruolo di dodicesimo alle spalle di Pepe Reina che ricordiamo quest'oggi non ha partecipato all'amichevole contro la Bassanaone per un problema alla schiena nulla di grave dalla Polonia Forza Napoli saluti a te Antonio Javarone saluti a mia moglie saluti mia moglie Elena Martorelli certamente Massimo un bacio un saluto a tua moglie Elena Mertens come sta giocando beh Mertens ha segnato cinque gol e non ha giocato nemmeno tutta la partita perché è entrato soltanto nel secondo tempo quindi prestazione veramente maiuscola dell'attaccante belga che ha iniziato non poteva iniziare nel migliore dei modi per fortuna ci siete voi vivendo al nord l'unica maniera per avere notizie sul mio Napoli vi stimo grazie Luciano Tarallo 17 a 0 il risultato ricordiamo di Napoli Bassanaunia ha segnato anche Leandrigno ma c'è da sottolineare la perfetta prestazione di Dries Mertens che ha acceso la partita nel secondo tempo però abbiamo visto anche un ottimo Arek Milik un ottimo Lorenzo Insigne saluti a Maria Teresa figlia di Felice De Siena complimenti comunque ciao e buona serata e forza Napoli ciao a te caro Pietro Liva per calcio Napoli pippurrà noi ci uniamo a questo coro di Luca Crescenzi Papu Gomez ha firmato il nuovo contratto secondo me non c'è alcun Mister X beh se noi potevamo immaginare un Papu Gomez nelle vesti di Mister X a questo punto crediamo possa essere difficile l'arrivo dell'attaccante dell'Atalanta in azzurro perché quest'oggi ha rinnovato il suo contratto con l'Atalanta Ania Totti Bassino ma la videoreplica si vede da qualche parte sì si vede sulla nostra fanpage facebook quindi calcionapoli24.it e allora la partita è finita io signor Luigi un saluto perché lei è stato il mio supporto tecnico arrivi arrivi in telecamera venga qui venga qui se no non la vedo un saluto al signor Luigi che arriva direttamente dall'Olanda 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 è stato lui colui che mi ha aiutato quest'oggi in questa fantastica ma complicata diretta noi ci auguriamo di essere stati di compagnia e di avervi fornito delle informazioni non solo relative alla partita ma anche riguardo il calcio mercato un saluto affettuoso dal qui presente Fabio Cannavo e da tutta la redazione un grazie ad Emiliano Carillo di Si Comunicazione un grazie anche a tutta la redazione di Calcio Napoli mi raccomando sempre Forza Napoli sempre su Calcio Napoli 24 ciao un nuovo modo di vivere i sapori creazioni di gusto e piacere alternativi ad ogni morso un'esperienza Fish Bar il gusto da esperti di mare i si il c'è si non l in Grazie a tutti